Ben trovati e ben trovate a Peccato non leggerlo tra vizi capitali e virtù letterarie. Io sono Matilde Scuderi e vi devo annunciare che siamo finalmente giunti a metà del nostro percorso alla scoperta degli aspetti più oscuri delle passioni umane. È arrivato dunque il momento di chiarire che cos'è esattamente un vizio capitale. Secondo un'ottica religiosa il vizio è l'abitudine reiterata ad assecondare quelle inclinazioni negative e malvagie che naturalmente sono presenti nella nostra anima. Capitale invece è un aggettivo che deriva dal latino caput ovvero testa e indica la preminenza di qualche cosa, la sua capitale appunto importanza. L'associazione di vizio più l'aggettivo capitale indica la preminenza di questo gruppo di peccati in quanto capace di mettersi a capo appunto di tutta un'altra schiera di atti peccaminosi e di generarli praticamente all'infinito. La potenza generativa e il carattere intrinsecamente naturale dei vizi sono particolarmente evidenti nella gola che oggi andiamo ad affrontare. Mangiare e bere sono atti naturali certo ma quando è che si tramutano in un comportamento appunto vizioso? Per gli antichi greci il segno della misura era il limite del naturalmente necessario. Stando ad Aristotele, sempre etica Nicomachea, il giusto mangiare e il giusto bere erano quelli che consentivano di non arzarsi mai sazi da tavola. Che noia! E chi invece indulgeva in appetiti eccessivi veniva additato come schiavo dei propri sensi, schiavo della propria carnalità incapace di seguire i dettami della ragione e della misura. Tanta era la condanna verso la gola, verso l'ingordigia, che c'era addirittura uno stereotipo praticamente razziale nei confronti di un'intera popolazione, quella dei Beoti, gli abitanti della Beozia, la cui capitale, diciamo così, era la città di Tebe. I Beoti venivano additati come rozzi incolti e soprattutto debiti alla crapula, un aggettivo Beota che con le sue connotazioni negative è giunto fino ad oggi, probabilmente anche grazie alla penna del dannunzio. Per la tradizione giudaico-cristiana, il primo peccato commesso dall'uomo, anzi dalla donna, è stato quello di mangiare una mela. E questo può darvi la misura di quanto cedere alla tentazione mangereccia fosse considerato riprovevole. Certo, l'interpretazione di questo testo deve essere un po' più allegorica che prettamente culinaria perché il serpente aveva promesso il discernimento del bene e del male a chi avesse mangiato il frutto dell'albero proibito e quella era una prerogativa che apparteneva solo ed esclusivamente a Dio. E comunque probabilmente si trattava di un'albicocca. Ma scusate, se mangiare e bere è necessario, è dilettevole ed è probabilmente un impulso che ci ha dato Dio stesso perché mai dovrebbe essere considerato riprovevole al punto di essere un vizio capitale. Beh, come per i greci il punto è superare la misura, andare oltre alla naturalità. E se non dobbiamo arrivare agli eccessi della setta dei catari, i cui membri idealmente si lasciavano morire di fame. C'è sempre il dettato di Sant'Ambrogio che diceva che con il digiuno si arriva molto più velocemente al Signore. Però, insomma, il punto è questo. Bisogna ammaestrare la carne con la frugalità per non lasciarsi dominare dalla parte più corporea del nostro essere uomini e donne. Ma non è solo la quantità di cibo a essere problematica, lo è anche il suo grado di sofisticazione. E questo ci fa capire molto chiaramente come nella cultura occidentale la gola sia un peccato prettamente sociale. Perché di gola possono peccare i ricchi in un tempo in cui le risorse sono particolarmente limitate? E quando si ha in mente la crapula dell'ingordo e del goloso, probabilmente l'immagine mentale è quella di un banchetto nobiliare ricco di cibi abbondantissimi e impreparati in modo molto raffinato. Simili tavole denotano una durezza di cuore che va proprio contro al dettato dei Vangeli, che predica invece l'amore per il prossimo, soprattutto se è più bisognoso e più povero. Ma ecco che arriva forse il punto centrale del peccato di gola, il fatto di risiedere nella bocca. Chi mangia tanto e soprattutto chi beve troppo spesso dice una serie di cose che non dovrebbe dire. E quindi la gola apre la porta a tanti altri peccati che non solo rende il corpo più rilassato e quindi più incline anche al peccato della lussuria, grande compagna di carnalità, ma fa dire al beone e al goloso bugie, insulti, affermazioni vanagloriose e addirittura bestemmie e menzogne. Insomma un'oralità che non andava per niente bene sia dal punto di vista di ciò che si immette nel corpo sia dal punto di vista di ciò che esce dall'anima. Il legame tra la grassezza da un lato e la stoltezza dall'altro risiede proprio in questa doppia connotazione e dà vita a uno stereotipo negativo che resiste intatto ancora ai nostri giorni. Le varie nefandezze del vizio della gola sono mirabilmente condensate in quello che forse è il banchetto letterario più celebre di tutti, la cena di Trimalcione che occupa i capitoli centrali del Satiricon, un'opera in prosa in versi di Petronio, scrittore attivo nel primo secolo dopo Cristo. Esso è un romanzo ambientato nella Magna Grecia e segue le avventure di Encolpio, un giovane studente di retorica, Gitone, il suo amato adolescente, e Ascito, un nemico o amico che poi si tramuterà il rivale d'amore. Encolpio ha oltraggiato il dio Priapo e per questo motivo deve vagare lungo e largo per la Magna Grecia subendo una serie di sventure erotiche. Tra i vari episodi che ci sono giunti di questo romanzo il meglio conservato è sicuramente la cena di Trimalcione e ci sarà un motivo. Trimalcione è un liberto arricchito prototipo del parvenu e dà, per ostentare le proprie recenti ricchezze, un banchetto che si tramuta in un vero e proprio spettacolo. Al suo interno predominano volgarità, rozzezza, ubriachezza e discorsi volgarissimi, il tutto accompagnato da una serie di divande grottesche, come ad esempio un maiale ripieno di salsicce oppure una lepre porchettata con delle ali finte che la fanno assomigliare a Pegaso. Il tutto culmina con il chiccissimo finto funerale del padrone di casa che dà origine a un grande diverbio con la padrona e provoca la fuga dei nostri tre protagonisti. I tratti comici e un po' grotteschi la fanno da padrone anche nei ritratti dei grandi golosi della letteratura, due in particolare, Falstaff e Pantagruel. Falstaff, personaggio shakespeariano, compare in Enrico IV, in Enrico V, nelle Allegri Comari di Windsor e anche nell'opera omonima di Verdi, sul libretto di Enrico Boito. In lui vediamo molto chiaramente come la lussuria si accompagna alla gola e come questo bel duetto sia seguito anche da tutta una serie di peccati di parola. Falstaff, infatti, con la sua imponenza e il grande pancione che desidera sempre riempire, è tuttavia molto seducente per le donne. E lui lo sa e ama per questo vantarsi, proprio come fanno i soldati fanfaroni della letteratura latina che hanno fornito il modello a Shakespeare. Pantagruel è un personaggio nato dalla penna di François Rabelais, che nel 1532 fino al 1562 scrisse cinque romanzi satirici che fecero grande scalpore e provocarono addirittura le ire della censura. Si tratta delle avventure di due giganti, Gargantua il padre e Pantagruel il figlio, che con le loro fantasiose peripezie mettono in rilievo e ridicolizzano gli aspetti più bigotti della morale del tempo, ad esempio la morale sessuale oppure l'ipocrisia del clero. Pantagruel ha maggiore spazio nella narrazione. Celebre per le sue dimensioni sovrumane e anche per il suo straordinario appetito, in lui però c'è anche un tratto che non vediamo nel classico personaggio goloso, ovvero un grande amore per la cultura umanistica e una sostanziale bontà d'animo e generosità. L'episodio forse più divertente è nel primo volume delle sue avventure, quello del 1532, in cui i suoi compagni di viaggio riescono addirittura ad entrargli in bocca dove scoprono un mondo intero con città, mercati e campi. Insomma, grazie alla sua ingordigia, Pantagruel sfama addirittura interi villaggi. Beh, forse questo è un segno dei tempi. Dopo le astinenze monacali che hanno contraddistinto il Medioevo, forse è tempo che il corpo faccia pace con lo spirito. Il tutto con buona pace dei censori. È arrivato il momento di congedarci anche questa volta, ma bando alle tristezze, perché nella prossima puntata esploreremo il mio vizio preferito, la cidia. A presto!